Il signor Colombo, assistenti, Palermo, Marcigli, quarto uomo colpi, Barra, Dionisi, Abara, Serra, Formazioni, Verona, a mani numero 32, Berardi, a mani numero 31, Zimano, a mani numero 42, Popola, a mani numero 17, Zimino, a mani numero 25, Paragoni, a mani numero 78, Bola, a mani numero 4, Veloso, a mani numero 8, Lazzavis, a mani numero 13, Lasagna, a mani numero 10, Gabriele, a mani numero 99, Simeone, allenatore Igor Gudon, a disposizione con la mani numero 46, Montifoto, con la mani numero 12, Chiesa, con la mani numero 16, Cesare, con la mani numero 27, Davidovic, con la mani numero 45, Estos, con la mani numero 30, Trabotta, con la mani numero 29, De Paoli, con la mani numero 61, Montanese, con la mani numero 24, Messa, con la mani numero 48, Parasalic, con la mani numero 18, Caccelier. Dal 1900, il calcio a Roma, si chiama Società Sportiva, Caccelier. Con la mani numero 1, Tomas. Con la mani numero 29, Manuel. Con la mani numero 3, Luis. Con la mani numero 33, Francesco. Con la mani numero 37, Adam. Con la mani numero 21, Sergei. Con la mani numero 32, Danilo. Con la mani numero 88, Tomas. Con la mani numero 7, Perifere. Con la mani numero 11, Hovanie. Con la mani numero 20, Mattia. L'allenatore, Maurizio. A disposizione, con la mani numero 25, Reina. Con la mani numero 31, Adamonis. Con la mani numero 26, Radu. Con la mani numero 16, Kamenovic. Con la mani numero 23, Isai. Con la mani numero 6, Leiva. Con la mani numero 8, Agba, Agro. Con la mani numero 50, Bertini. Con la mani numero 18, Romero. Con la mani numero 27, Moro. E con la mani numero 9, Pedro. E poi lo dico il nostro capitano. Con la mani numero 17, Ciro. Si lo firmi si intende. Si lo firmi si intende. Si. Lo. Si lo firmi si intende. Grazie a tutti. 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 a tutti. a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.